Poi è salito lì, hai salito nel terzo gradino del podium, come è il passo? Perché? Perché Marco ha ottenuto la penalti per 5 secondi e è stato perché di un incidente, credo di 10 minuti, ma per me non so cosa pensare, ma se lo faccio penso che ho ottenuto la penalti, quindi credo che sia corretto e è il racismo, sono molto felice. E' molto contento, dice, perché ha ricevuto una penalizzazione Marco Ardigo, lui era quarto e è salito sul terzo gradino del podium, dice, io non so cosa pensare a riguardo di quello, so solo che se l'avessi fatto io avrebbero penalizzato anche me, di conseguenza questa è la gara e ci sta. Ma tu hai una buona parte, perché tu eri molto veloce, anche nel terzo giusto questa mattina. Sì, il primo giusto questa mattina era molto buono, perché... Un po' di sbagliato, puoi dire un po' di sbagliato. E' un po' di sbagliato perché non abbiamo messo il nuovo giusto, abbiamo messo il nuovo giusto per il secondo giusto, e era una buona scelta, poi ho iniziato con 10 alla final, e dopo il primo giusto non c'era, quindi era molto buono per me, e poi... E' la fine è riuscito ad arrivare terzo. Grazie. 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 Grazie.